Musica Governo sulla graticola per il caso Shalabaieva, anticipato ad oggi il dossier del capo della polizia Pansa, mentre potrebbe saltare l'informativa di Alfano al Parlamento. Sul ministro dell'Interno pende una mozione di sfiducia presentata dai Cinque Stelle. Primo incontro tra le parti sociali stamane al Ministero del Lavoro per discutere dei contratti da applicare in vista dell'Expo 2015. Il ministro Giovannini ha sollecitato la ricerca di un accordo entro metà settembre, altrimenti ha detto che Governo e Parlamento dovranno intervenire. Controlli a tappeto in tutta Italia contro il falso Made in Italy. Controlli 147 le aziende nel mirino dei nuclei antifrodi dei Carabinieri che hanno sequestrato oltre 4 tonnellate e mezza di prodotti alimentari messi in circuiti illegali per un guadagno superiore a un milione e mezzo di euro. Vendevano diritti su film appartenenti alla storia del cinema italiano, nei confronti dei quali però non avevano alcun titolo di possesso. responsabili della frode da 21 milioni di euro, un noto produttore cinetelevisivo e un pubblicitario sequestrati beni per 2 milioni. Blitz Anticamorra nella notte a Napoli e in altre località italiane, arrestati 46 presunti affiliati al clan dei Lorusso. Le accuse per tutti sono di associazione finalizzata al traffico internazionale e allo spaccio di stupefacenti, violazioni alla legge sulle armi e riciclaggio. Seconda passeggiata spaziale oggi per l'astronauta italiano Luca Parmitano. Sulla stazione spaziale orbitante sarà impegnato a predisporre l'attracco del modulo russo in arrivo. Tra oggi e domani sarà annunciato il nuovo governo in Egitto. Prima indiscrezioni, l'attuale capo delle forze armate, generale Al-Sisi, sarà vice premier. Nella notte scontri al Cairo tra sostenitori di morsi e forze di sicurezza, 22 i feriti. C'è una piaga che sta dilagando le nostre città. Una piaga che impoverisce le persone. È la piaga delle salotte macchine. Ci sono persone che si giocano tutto quello che hanno. E se mi giocassi la basilica di San Nicola? Se mi giocassi il Duomo? E se mi giocassi il Battistero? Se mi giocassi il Palazzo dei Normanni? Se mi giocassi il Castel dell'Ovo? Se mi giocassi la Mola Antonelliana? E se mi giocassi l'Arena? Ti giocheresti la cosa più preziosa che hai. Ogni giorno sotto casa tua c'è una nuova sala slot. Non fa bene a nessuno. Non fa bene proprio a nessuno. È soltanto un segno di inciviltà. Basta con le slot. Basta con le slot. Basta con le slot. Riprendiamoci le nostre città. Gua in vista per il comune di Palermo. In forti difficoltà economiche e a rischio crack finanziario. Un rischio concreto stando a quanto annunciato dai magistrati della Corte dei Conti che hanno lanciato un avvertimento al sindacolo Luca Orlando. Dalla Corte dei Conti spiegano come le spese eccessive effettuate dal comune per i precari avrebbero fatto ricadere sul bilancio di Palazzo delle Acule costi troppo gravosi in misura di gran lunga superiore rispetto agli altri comuni siciliani. A lanciare l'allarme è la sezione di controllo guidata da Maurizio Graffeo. A destare maggiori perplessità sarebbe il chiacchieratissimo accordo Stato-Regione Comune che ha permesso, dopo interminabili dialoghi ed esami, di dare il via libera all'erogazione della Cassa Integrazione Inderoga per 1.722 operai della GESIP di Palermo, con la conseguente reimmissione in servizio dei lavoratori che godranno anche di un'integrazione salariale. Per i magistrati contabili, come riportato nell'edizione odierna del giornale di Sicilia, l'accordo da parte del comune di questione li può essere giustificato solo se trova riscontro nella prestazione da parte degli operai degli stessi servizi affidati alla GESIP. La Corte dei Conti invita dunque il comune di Palermo a dotarsi di un efficiente sistema di rilevazione delle prestazioni res che dimostri contabilmente la proficuità della spesa sostenuta. Altro rilievo della sezione di controllo della magistratura contabile riguarda il buco delle partecipate comunali, che in mancanza di misure correttive, adeguate e tempestive, avrà pesanti conseguenze per le finanze comunali e la continuità dei servizi resi ai cittadini. Il sindaco di Palermo, Luca Orlando, insieme agli assessori al bilancio Luciano Abbonato e alle partecipate Cesare Lapiana, ha depositato questa mattina in tribunale la proposta d'affitto con diritto di prelazione sull'acquisto per il ramo d'azienda di Amia e Amiesm, comprendente il personale, beni immobili e tutto quanto necessario per l'espletamento delle attività, al fine di garantire, spiega lo stesso Orlando, una totale riorganizzazione dei servizi di igiene ambientale in città ed un miglioramento delle condizioni di pulizia, tutelando allo stesso tempo i livelli occupazionali. In seguito ad un'eventuale accettazione della richiesta d'affitto da parte del tribunale, questo avrebbe una durata di sei mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei. Il canone, fissato dallo stesso tribunale, è di 99.000 euro mensili. Il diritto di prelazione sull'acquisto scavalcherebbe qualsiasi ulteriore provvedimento, evitando anche una gara per l'eventuale cessione dell'azienda, visto che, secondo l'amministrazione, il servizio spetta comunque al comune, in base alla nuova legge regionale e dalle normative di riferimento nazionali. I servizi dovrebbero essere gestiti dalla nuova società RAP, Risorse Ambiente Palermo, la cui costituzione è stata deliberata la scorsa settimana dal Consiglio Comunale di Palermo, che ha anche deciso una dotazione economica non inferiore a 90.000 euro al mese, approvando a larga maggioranza la delibera dell'Aggiunta Municipale. Si protrae la serrata dei laboratori d'analisi e lo stop ad analisi e prelievi negli oltre 400 laboratori convenzionati dell'isola, una situazione che potrebbe causare una nuova emergenza occupazionale. La settimana scorsa, infatti, la terza serrata nel giro di soli quattro mesi per protestare contro l'applicazione delle nuove tariffe per i rimborsi delle prestazioni. I sindacati di categoria avevano annunciato che la protesta si sarebbe protatta all'oltranza, e così è stato. Da oggi in poi avevano annunciato Trattiamo solo con il governatore Rosario Crocetta, un ultimatum deciso dopo il fallimento della trattativa con l'assessorato regionale alla salute. Il mese scorso il tavolo tecnico insediato per la revisione delle tariffe del decreto Balduzzi, che prevedono tagli fino al 50% su alcune prestazioni, aveva individuato una soluzione prevedendo il pagamento di un ticket tra 6 e 10 euro sulla ricetta. Una soluzione vincolata al via libera del Ministero della Salute, che però ha frenato la Regione. In attesa delle decisioni ministeriali, l'assessorato regionale aveva promesso ai privati un tariffario ponte da adottare temporaneamente con coperture finanziarie regionali e istituito un tavolo tecnico che ha lavorato su un pool di 50 prestazioni da rivedere. Ma il tariffario ponte non è mai arrivato, mentre le strutture fanno registrare perdite del 50% del fatturato. Così i laboratori sono di nuovo sul piede di guerra. Da domani le strutture ricominceranno a lavorare il regime di libera professione, anche per poter avere qualche risorsa in più. Adotteremo un tariffario sociale che è il tariffario regionale precedente, quello preesistente a Balduzzi. E dopodiché continueremo a fare azione nei confronti delle istituzioni perché si rendano conto della tragedia che sta per avvenire in Sicilia, della perdita dei posti di lavoro, del fallimento delle strutture, che sono tanti che qualcuno dovrà fare. A seguire noi faremo un'azione sulla Commissione Sanità per avere un'udizione urgente e un'azione di sensibilizzazione del Presidente della Regione per una manifestazione davanti al Palazzo dell'Organza. Per quanto riguarda invece le azioni della categoria a tutela delle strutture, abbiamo già raccomandato i legali per una classation nei confronti della Regione del Ministero e inizieremo una serie di azioni legali nei confronti dei singoli funzionari che dovessero parare in danno delle singole strutture. L'altra metà dello sviluppo è il titolo del convegno che questa mattina si è tenuto nella sede di Union Camere Sicilia in via Americo Amari a Palermo organizzato dal Comitato per l'imprenditoria femminile della Confesercenti Sicilia. Al convegno erano presenti anche il Presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina, e la Presidente di CNIF Impresa, Donna Confesercenti Patrizia De Luise e l'Assessore regionale delle attività produttive, Linda Vancheri. Le piccole e medie imprese, che sono le imprese che noi rappresentiamo in Sicilia, hanno un obiettivo primario, quello di valorizzare la figura della donna, non fine a se stessa, ma proprio perché noi crediamo che lo sviluppo e la ripresa economica della nostra terra passi proprio dalle donne, passi proprio da un'impresa che deve parlare al femminile, deve essere al femminile. Peraltro i danni che l'uomo ha portato nel sistema impresa Sicilia sono noti a tutti, per cui non si tratta solo di una speranza, si tratta solo di una certezza. Noi per questo iniziamo il primo appuntamento di questa rinnovata Confesercenti partendo proprio dall'altra metà dello sviluppo, partendo proprio dalle imprese al femminile. L'imprenditoria femminile è uno spaccato che c'è, dai numeri risultano essere tante, ma è vero anche che ci sono ancora delle oggettive problematiche per chi ha un genere diverso dal genere maschile deve gestire la propria impresa. Sono le problematiche che hanno tutte le donne che lavorano. Siamo in un paese dove comunque tutto il sistema del welfare familiare e assistenziale è stato affidato alla famiglia e all'interno della famiglia questo se lo è accollato la donna, per cui una donna che lavora ha oggettivamente delle difficoltà maggiori. È stata una scelta di tipo anche culturale quello di rivolgersi alle donne per capire e per fare capire quale può essere il contributo dell'imprenditoria femminile allo sviluppo del territorio. Questo si collega con i dati forniti recentemente da Union Camere che danno le imprese in rosa in crescita in tutto il paese in maniera abbastanza omogenea e anche in Sicilia. Attraverso questo momento si vuole proprio approfondire questo aspetto perché le donne hanno dimostrato non solo di avere una maggiore empatia nella loro attività imprenditoriale, ma hanno dimostrato di aver avuto coraggio di aver saputo affrontare le sfide del momento con maggiore intraprendenza. Tragedia nella tarda mattinata di oggi al villaggio Pace di Messina dove una bambina di 7 anni è precipitata dalla terrazza di una palazzina. Per la piccola Michelle Squadrito ferita alla testa a seguito dell'impatto è stata inutile la corsa all'ospedale Papardo dove è arrivata già senza vita. Tutta da ricostruire la dinamica della tragedia avvenuta in via 157 la bambina che abitava con il padre e la madre con due fratelli in uno dei fabbricati appena dietro quelli che si affacciano sulla litoranea sarebbe caduta tra le 12.30 e le 13 sfuggendo al controllo dei genitori. A notare il suo corpo immobile sull'asfalto una vicina di casa che ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile che stanno raccogliendo ogni testimonianza utile alla ricostruzione della dinamica del tragico evento. Presentato oggi in conferenza stampa lo Sportello Mare che opererà nell'ambito del compartimento marittimo di Catania sino al prossimo 25 agosto. In aderenza alle disposizioni emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto lo Sportello Mare ha la finalità di offrire all'utenza balneare di portistica durante tutto il periodo estivo una serie di servizi e informazioni. Facciamo l'attività tipica dell'ufficio cioè diamo informazioni ma diamo anche seguito alle eventuali pratiche che l'utente vuole avviare nell'ora serale perché ha voluto impiegare giustamente l'orario mattutino per andare a mare con la famiglia cioè dare in modo di dare un incremento ed una spinta, un supporto al turismo turistico in Sicilia che soprattutto è un tipo di turismo turistico balneare. Naturalmente a questo abbiamo aggiunto un'ulteriore iniziativa che è quella dello Sportello Mobile infatti l'iniziativa l'abbiamo battezzata Sportello Mare di diretto contatto con l'utenza balneare e con l'utenza di portistica ma accanto a questo abbiamo aggiunto un'ulteriore iniziativa di prossimità con l'utenza cioè spostandoci gli uffici negli stabilimenti balneari o nei porticcioli per consentire agli utenti di avere la possibilità di contattarci direttamente senza ulteriore aggravio di traffico ovvero di situazioni più o meno burocratiche cioè avere la possibilità di riscontrare con emmeratezza l'utenza. Queste postazioni sono collegate telematicamente con l'ufficio in Capitineria che come abbiamo detto è aperto fino alle 20 e quindi sono in grado di fornire i medesimi servizi che fornisce questo ufficio.